ciao a tutti ragazzi buongiorno bentornati ben ritrovati da le vacanze dal rientro pasquale da quello che è stato il nostro stop provvisorio settimanale possiamo dire così di pausa dalla nostra quotidianità bentornati nel podcast di Annina bentornati in un nuovo episodio se per caso qualcuno di voi ha perso qualche scorso episodio c'è una playlist dedicata tra tutte le playlist del mio canale con scritto podcast di Annina e lì trovate tutti gli altri episodi che vi sono piaciuti alcuni di più rispetto ad altri sono sincera non vi dico bugie ma ci sta può essere che ci siano delle tematiche che coinvolgono di più rispetto che ad altre se vi va nel podcast di oggi fatemi sapere se mi state ascoltando non lo so dove vi metto oggi? vi metto qui? non lo so fatemi sapere se mi state ascoltando dalla macchina piuttosto che mentre state guidando piuttosto che mentre fate non lo so delle faccende domestiche insomma i podcast si sa sono la compagna di sottofondo quando devi fare un qualcosa quando vuoi una piccola voce che ti sia accanto che ti sostenga che ti supporti però al tempo stesso ti dia la possibilità di non guardare per forza lo schermo infatti oggi potrete tranquillamente ascoltare senza guardarmi serenamente però si parla di alcune tematiche e ci si mette in gioco ecco io oggi voglio parlare di una cosa rispetto alla quale ogni tanto mi veniva fatta qualche domanda spero che non si sentano le voci dei bimbi che stanno giocando fuori al parco perché se no è anche vero che oggi è un giorno di festa quindi ci sta anche che escano e si divertano e tutto però gridare in questo modo cioè io dico anche no un po' li penso alla me di quando ero piccola che gridavo anch'io quando andavo a giocare al parchetto e dico quindi forse alle persone che stavano lavorando magari davo un po' di assidio non lo so vabbè comunque a parte questo ragazzi adesso passa pure la moto perfetto oggi voglio parlare di cibo ma non di quelle cose pallose noiose sentite in giro sensibilizzazione normalizzare di qua e di là ciccocco no oggi vi voglio parlare del rapporto che io ho con la carne e di cosa penso rispetto alle persone vegetariane cosa penso rispetto alle persone che sono vegane e che idea mi sono fatta a riguardo io ho ascoltato anche podcast di altri creator prima di effettuare questo e questa è una mia personalissima versione dove non ho voluto riportare per vari fattori che magari poi potrebbe anche un po' annoiare ad essere un po' palloso alcuni tecnicismi alcuni dati alcune statistiche cose di questa tipologia no io ho preferito andare dritta al sodio in questo video ed è ciò che farò però vi chiedo di avere una mente serena nell'ascoltarmi perché se siete contro i vegani contro i vegetariani contro quelli che mangiano tutto allora questo video forse non è il video adatto per voi però vi chiedo cosa mangiate voi frutta? siete fruttariani? cioè nel senso mi faccio una piccola domandina detto ciò io non appartengo a nessuna di queste categorie tra virgolette perché mangio veramente quello che mi sento ma vi ho anche sempre detto che già da quando ero piccolina ho sempre mangiato comunque in maniera abbastanza limitata non so la frutta e la verdura più la verdura diciamo io ho un'alimentazione abbastanza variegata però devo dire che magari in una settimana mangio sicuramente più volte la pasta che i spinaci mando sicuramente più volte delle patate al forno piuttosto che non lo so un filetto di salmone cioè sicuramente ecco il carboidrato purtroppo prevale un pochino di più della mia alimentazione o i dolci queste cose qui però ci sono tantissimi giorni in cui mangio anche altro mangio non lo so quel pezzettino mini di carne con il contorno il pesce con il contorno a volte prendo anche dei burger vegetali così per provare delle volte mangio la mozzarella delle volte si mangia un toast cioè cerco sempre comunque di variare sono una persona che mangio veramente in maniera super serena però una cosa che forse non si è mai notata dai social perché chiaramente non è che venite a pranzo con me ecco però forse lo posso dare a mettere in questo video io sono una persona sul cibo nella tematica del cibo altamente schizionosa cioè vi giuro che se se io mangio la coscia di pollo c'è del grasso io mi metto lì e lo tolgo se devo mangiare il filetto di salmone e sopra c'è ancora un po' di pelle io mi metto lì e la tolgo se c'è una spina cioè io sono un po' schizionosa nei gusti sono un po' un po' una rompipalle però ognuno ha le sue peculiarità ed è anche il bello di ciò che ci contraddistingue tra l'altro ultimamente non so se avete sentito di questa novità che c'è in giro ma viene venduta anche la farina di grillo sento un po' questo in giro con un prezzo sicuramente un po' più sostenuto è una farina sicuramente molto interessante a volte dicono la utilizzano come pangrattato è un accompagnamento quando prepari un determinato tipo di lievitato quando usi la 00 quella integrale ho sentito delle voci che una percentuale la sostituiscono appunto con questa farina di grillo poi accendo la televisione vedo che avevo visto un politico però non voglio dire nomi perché poi magari cito la persona sbagliata ma vi giuro avevo visto un politico che diceva andatevi voi a mangiare la farina di grillo quindi sicuramente diciamo che questo mondo se gli parlo di vegani o vegetariani mi ride in faccia ma vabbè allora io sono molto 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 aperta alla nuova generazione alle nuove idee a tutto quello che l'uomo vuole creare per migliorare la società non alle cretinate nuove però che crea che produce compresa che crea che produce anche la generazione Z ma detto questo non ho nulla contro chi mangia tutto non ho nulla contro chi è vegano non ho nulla contro chi è vegetariano e nemmeno contro chi è nell'ipotetico fruttariano sicuramente nutro un certo dissenso nei confronti di persone che magari abusano abusano della carne quindi magari ne mangiano in maniera incontrollata e anche non si informano dalla provenienza dalla derivazione magari in una settimana la mangiano anche non lo so sei giorni su sette per dire ecco quando c'è uno squilibrio un abuso di un qualcosa quando si supera il limite dell'equilibrio questa cosa mi dà veramente molto fastidio e anche i bambini che stanno giocando fuori che mi distraggono con le loro urla ma a parte quello questa trovo che sia una cosa molto scorretta perché alla fine siamo una società dove ogni giorno ci viene richiesto di pensare di fare dei ragionamenti di sviluppare anche un nostro pensiero critico sicuramente se vi faccio questo video non è perché sono qui a girare pan per focaccia si dice ma sono qui un attimo per dirvi tu l'hai fatta questa riflessione tutto qua però c'è anche chi se ne sbatte di tutto ciò ecco io sono un po' sono un po' contro le persone che fanno finta di niente sono un po' contro le persone che non danno importanza a questo argomento come a tutta la sfera dei disturbi alimentari che è un'altra cosa non è quello di cui voglio parlare in questo video ma ci sono tante persone che li vedono come un qualcosa di semplice e io conosco tantissima gente che ha sofferto in questo in questo ciclo di brutti episodi che ti porta poi la vita a vivere quando non c'hai un bel equilibrio tra te stesso e il cibo non sono sono contro non contro sono tipo contrariata cioè ho un mio pensiero rispetto alle persone che magari anche sanno una determinata informazione ma fanno finta di nulla ecco questa cosa qui dell'ignorare io non la sopporto minimamente tutto il resto possiamo parlare tranquillamente siamo liberi siamo sereni e io veramente in questo video non vi dirò credo nulla di nuovo però la mia opinione la porterò la porterò ed era quello di cui parlavo anche in alcuni scorsi video smr dove vi ho detto ma sapete vorrei fare un podcast proprio dedicato ecco nel podcast nell'episodio di oggi adesso brevemente vi voglio dire la mia opinione cosa ne penso e merito a tutto ciò allora ragazzi parto da me stessa perché è giusto è giustissimo soprattutto in questa tipologia di video credo sia assolutamente giusto ed onesto partire da me per poi parlare degli altri penso che sia più che legittimo allora partiamo partiamo dal presupposto che io nasco in una famiglia dove c'erano le galline le mucche il maialino i coniglietti basta mi pare non so non mi ricordo comunque i miei nonni le vabbè l'uva è una cosa che non c'entra nulla però c'era anche la produzione del vino eccetera le api il miele quindi eccetera nasco da una famiglia di persone dedite all'agricoltura o comunque contadini tra virgolette non che io sia una contadina non è questo il concetto che voglio trasmettere quello che voglio spiegarvi è che io dalle generazioni dei miei nonni c'è sempre stata questa passione per la produzione del vino piuttosto che tenere le galline per poi avere le uova fresche piuttosto che avere i coniglietti eccetera 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 quindi tante volte mio papà per scherzare mi diceva quando ero piccola dovresti parlare con i tuoi professori le tue maestre chiedere se gli andrebbe di fare una gita dalla nonna perché abbiamo tutti gli animaletti e li potremmo mostrare mio nonno che adesso non c'è più mi ha trasmesso proprio nel sangue questo amore per la natura per gli animali per il voler bene del prossimo e anche questa questa importanza delle materie prime della genuinità dei prodotti che poi si presentavano nella nostra tavola tutti i giorni tanto che noi per esempio le uova non le abbiamo mai comprate perché ce le da sempre mia nonna perché appunto ha le galline le galline hanno tutto un terreno di erba dove fanno tutto quello che vogliono io ho sempre adesso no all'epoca avevo una ciotolina con il cibo che glielo davo sempre e poi c'era una specie di casettina fatta in legno che c'è ancora dove c'erano tutte delle piccole casettine fatte apposta per queste galline ciascuna aveva la sua casetta più il gallo e facevano le uova lì non è che adesso dobbiamo fare la fattoria di mia nonna ma è per dire che io nasco da questo concetto quindi comunque un minimo vieni un po' influenzata probabilmente se mio nonno fosse qui e gli dicessi nonno un giorno diventerò vegetariana o vegana mi ride in faccia però mio nonno l'avrebbe potuto fare gli altri no allora io non sono né vegana né vegetariana però devo dire che la cosa che sto facendo ho fatto e penso continuerò a fare sicuramente ho un utilizzo e un consumo di carne sicuramente molto 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 limitato rispetto a una persona comune ecco questo sì per esempio la carne rossa penso che non la mangio da non so quanto tempo più di un anno probabilmente magari ho mangiato degli hamburger ecco ma la carne rossa diciamo quasi mai veramente quasi mai quella che magari mangio una volta alla settimana una volta ogni due settimane è magari quel pezzettino di pollo no ma non perché io sia vegana perché io sia vegetariana eccetera ma se voi andate su internet digitate cosa fanno i cinesi agli animali cosa viene fatto in alcune industrie ai polli vi viene male ma a parte questo girano tanti video dove gli animali vengono maltrattati e non apro parentesi brutte perché non è cioè penso che ciascuno di noi sa le cose ma un conto è saperle e far finta di niente e fregarsene un conto è saperle e fare qualcosa ciascuno di noi nel nostro piccolo per migliorare questa realtà sono una persona vegetariana? no perché io mi nutro solo di vegetali assolutamente anzi non penso che non riuscire neanche perché cioè pesce ne mangio ma a parte quello vegetali vi ho appena detto prima che io mangio poca verdura mangio ogni tanto gli spinaci ogni tanto le zucchine ogni tanto le melanzane l'insalata non la mangio mai i pomodori mai nel senso tu che mi vedi con una foglia di salata ti viene male perché non la mangio mai quindi come potrei vivere tutti i soli vegetali ma a parte questo io non ho nulla contro nessuno nessuno che fa nulla nessuno che prende nessuna scelta sicuramente eliminare definitivamente derivati latticini uova derivati animali carne pesce tutto cioè per ora io sono del pensiero io dico no per ora per il semplice fatto che il ciclo della vita è bello c'è la formichidna che si nutre c'è il plankton per la balena c'è il cagnolino che c'è nel senso ognuno per riprodursi mangia quello più piccolo sapete il ciclo degli animali della vita ecco quindi io credo che per lo stesso motivo l'essere umano aveva bisogno di un po' tutto per riuscire a vivere ci sono gli americani ci sono tantissime culture al di fuori dell'Italia che ci invidiano per la nostra cucina e per tutte le ricchezze e la bellezza che abbiamo noi nel nostro territorio e ci sono tantissime città al di fuori tantissimi turisti che vengono nelle città italiane solo per copiare il nostro modo di fare determinate cose perché l'Italia è meravigliosa da nord centro sud siamo tutti bellissimi però credo anche che togliere così boom la carne boom il pesce boom le uova e tutto cioè all'essere umano serve un po' tutto ecco e questo è il mio pensiero da cui parto che è quello che un po' mi hanno trasmesso i miei genitori i miei genitori sono umanissimi mangiano tutto eccetera ecco però da un periodo da questa parte ho iniziato a fare un po' fatica a mangiare la carne quella bistecchina eccetera per esempio con il pesce non ho nessun tipo di problema anche quello cerco di evitare di mangiare pesce tutti i giorni della settimana magari mangio non lo so un giorno mi mangio quel filetto di salmone un giorno mi mangio una scatoletta di tonno o prendo dei piccoli gamberetti o un giorno vado al mercato e prendo il pesciolino o il filetto di un classico merluzzo per dire ci sta basta non abusarne nelle cose però mentre su derivate animali pesce eccetera sono completamente d'accordo purtroppo io sulla carne faccio veramente ancora più fatica cioè mentre per le altre cose sono serena tranquilla mangio senza problemi per la carne penso un po' a tutto quello che fanno agli animali eccetera eccetera da una parte dall'altra dico eh amor mio però comunque io in un modo o nell'altro devo andare avanti a vivere mi devo nutrire quindi la mia scelta attuale è questa mangiare qualsiasi cosa in proporzioni in dosi contenute senza esagerare però la carne l'ho ridotta notevolmente come consumo abituale nella mia quotidianità i miei genitori lo sanno non so saranno un capito persone che mi stanno vicino sono d'accordo lo sanno non lo so però ecco cerco veramente di limitare il consumo di carne cerco di mangiarla magari quando ne vale la pena cerco di mangiarla se ne so bene la derivazione e tutto quanto sicuramente se un giorno non so cosa mangiare non mi metto a prendere e mangiare la carne a parte che onestamente non è che mi faccia impazzire quindi questo già un po' mi aiuta sapere poi quello che viene fatto ai polli che gli fanno ingrossare di medicinale e tutto io adesso non conosco bene le dinamiche ma ne ho sentite di cotte e di crude il buon senso nelle cose ecco la cosa che però magari mi differenzia da una persona X è sicuramente la mia riduzione di assunzione di carne nella mia quotidianità è un pochetto un problema perché nella carne rossa negli spinaci c'è il ferro quindi abbiamo bisogno un po' di tutto non ti devi star qui a dirci ma puoi integrare no l'essere umano ha bisogno di una dieta equilibrata però non faccio nulla di male se nella mia vita riduco un po' il consumo di carne ecco mangio magari un pochino di pollo mangio quel panno col prosciutto ma cerco di limitare il mio consumo a quello ok cerco di non allargare il mio consumo ad altro conoscendo e facendo un'azione no prendendo consapevolezza di tutto quello che vi ho detto prima non è che dico eh vabbè ma succedono quelle cose agli animali faccio finta di niente perché quello è tanto brutto e poi io voglio molto bene agli animali sicuramente è una cosa che mi tocca e bla 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 e quindi ho pensato che questa fosse la scelta migliore un futuro sarò vegano vegetariano non lo so non lo so ma non ho nulla contro chi lo è e anzi apro e chiudo una piccola parentesi sto assaggiando ogni tanto magari quei burgerini con la zucca con i ceci quindi tutte quelle anche culture fatte con dei legumi dei cereali e mi piace un sacco anche quel tipo di cucina di cultura cioè sono sicuramente molto affascinata l'unica cosa per la e poi concludo e vi saluto oggi non era proprio un podcast come gli altri è stata una puntata un po' più a sé ma va bene così c'è una cosa però che che mi ha dato fastidio che mi è capitata che ha avuto non faccio nomi ma c'è stata una persona che nel momento in cui ho detto non so si parlava ho detto magari che io non mangio tantissima carne o cosa questa persona mi ha detto non scherzerai mica come se avessi fatto chiesa cosa no ecco ci sono tantissime persone che sono contro i vegani i vegetariani io credo che non ci sia nulla di male credo che ognuno ha una testa e la possibilità di fare ciò che crede ciò che crede sia meglio per il mondo per gli altri c'è chi grazie a dio è anche una bella persona che ha la sensibilità di preoccuparsi del prossimo di preoccuparsi degli animali eccetera ma da lì a venire a sminuire una mia una mia scelta cioè se io raccontassi questo a certe persone che conosco mi guarderebbero e mi direbbero perché non devi mangiare carne ma sei tu matta cioè qua in Veneto si dice così nel senso che cioè non è concepita questa cosa però anche qui cioè nessuno dice nulla ma le persone che hanno escluso la carne dalla loro vita o i vegani che hanno una riduzione di tutte le cose derivate da animali ancora maggiore sicuramente molto più allargata sembra che queste persone appartengano a delle categorie speciali particolari pure l'ambulanza non so oggi proprio i video non me li lasciano registrare sembra che siano chi sa chi vorrei un attimo di fly down in merito a questo argomento anche se non sono nessuno per dire tutto ciò ma credo che sia anche importante sapere e non ignorare se magari puoi scegliere magari quella volta puoi scegliere di mangiarti quella fettina di carne in meno tanto non è che muori io attualmente credo che questa sia la strada giusta per me stessa la cosa che mi fa sentire in pace anche soprattutto con me stessa rispetto alla scelta che ho preso io sono molto contenta e molto felice vi chiedo di riflettere di avere una mentalità aperta che questo canale sapete che è super onesto e super aperto non siamo nel 2023 siamo nel 2033 e come ultima cosa vi chiedo di avere rispetto anche di chi fa delle scelte diverse dalle nostre cioè anche i ristoranti secondo me dovrebbero ampliare un po' la loro mentalità infatti quando l'altra sera sono stata mangiare la pizza ho visto nel menù pizze vegane pizze vegetariane oppure tipo c'era club sandwich vegano con insomma l'insalata i pomodoro non mi ricordo ero contentissima perché immagina di una persona che è vegana o vegetariana che si trova qualcosa anche per se stesso o per se stessa nei ristoranti siamo nel 2023 non nel 1932 capito quindi questo e poi è molto importante avere rispetto degli altri in generale ragazzi sia che uno mangia la carne sia che uno non mangia la carne sia che uno è vegano vegetariano che uno ha la pelle scura che uno ha la pelle chiara sia che uno è seduto in carrozzina e a questo ci tengo veramente tanto perché oggi sono sono andata a messa quando sono uscita ho visto questo cagnolino che aveva la testa e le due zampette davanti per camminare e le due zampe dietro erano insieme a due piccole rotelline che lo aiutavano a camminare era sarà stato un pincer piccolino un bassottino piccolo e ho detto se lui ce la può fare cioè vedere questo cagnolino con l'aiuto veramente se lui ce la può fare ce la possiamo fare tutti quindi altruismo comprensione compassione verso il prossimo empatia e apertura mentale ragazzi detto questo io vi saluto non ho attualmente altro da aggiungere onestamente spero che questo episodio vi sia piaciuto io sono stata molto sincera spero che sarete sinceri anche voi nel raccontarmi il vostro parere a riguardo è bello anche se avete qualche ricettina da suggerire cioè perché demigrare invece che unirsi per migliorare il mondo cioè io non voglio che i miei figli immagino lo manche cioè se sarà da fare questo ok lo faremo ma cerchiamo un attimo di utilizzare la testa no sicuramente se uno mangia la carne tutti i giorni pranzo e cena cioè fastidio un po' mi dà per forza di cose quando si utilizza la testa quando si è intelligenti si ha un buon senso e un grande rispetto verso il prossimo e delle cose dei doni che la vita ci offre è tutto molto semplice il problema è che in questo mondo c'è chi se ne sbatte ma c'è anche tanta gente scema stupida tanta 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 gente scema e quindi noi che magari certi ragionamenti quel passetto lo facciamo dobbiamo aiutare anche loro il problema è che a volte poi ti prendono in giro perché sono piccoli così pensano di essere grandi e sono piccoli così di cervello e se non sono cresciuti una volta ho visto insieme non mi ricordo ero con una collega non mi ricordo è arrivato un ragazzo io non ho detto nulla non ho aperto bocca questa qui mi guarda e mi fa era un ragazzo che non vedevo da anni mi guarda e mi fa ma Nina è cresciuto fisicamente ma ah no una professoressa una professoressa era passato un mio ex compagno di classe e e questa professoressa mi guarda e mi fa ma Nina è cresciuto fisicamente ma qui e mi lascio con la chicca cioè non me l'ha detto una persona a casa non me l'ha detto un docente quindi ragazzi poi in quel momento aveva l'occasione l'opportunità di confidarsi con me ma se questo ragazzo sapesse c'è tanta gente ragazzi che cresce fisicamente ma poi qui non cresce niente cerchiamo dai almeno noi di crescere bene e crescere insieme un bacione vi aspetto nei commenti e spero che questo episodio di questo podcast vi sia piaciuto ragazzi un bacione a presto ciao